La prima tecnica per farti davvero cercare da un uomo e renderlo ossessionato ovviamente è del push-pull, io la usavo spesso negli approcci dal vivo questa tecnica praticamente si rifà un po' in tutti i contesti della dinamica e delle relazioni sentimentali il push-pull è una sorta di positivo-negativo-positivo-negativo, quando io approccio una ragazza ho il complimento positivo quindi per esempio, non so, credo che ti sia davvero bene questo vestito, ma, e poi c'è il ma, sicuramente ne lo sarebbe meglio questo colore non è proprio il massimo della vita, positivo-negativo-positivo-negativo-positivo-negativo oppure negativo-positivo-negativo-positivo funziona sempre alla grande, questo lo potete provare e comunque genera risentimento, però genera attrazione allo stesso tempo ed è un buon modo per non perdere mai potere quando interagire con gli uomaccioni, con gli uomini, voi ragazze che vi piacciono chiaramente è una sorta di psicologia inversa, sfrutti il principio della sorta di reattività quindi rispondi agli ordini che ti vengono dati più o meno in modo contrario, ok? quindi crei una sorta di opposizione e competizione, soprattutto con gli uomaccioni, con gli uomini che ti piacciono, no? perché se sei qua, sei una donna o comunque sei un uomo, ti piacciono gli uomini, in quel caso lo puoi usare ma in realtà pure se sei un ragazzo lo puoi usare con le donne o con gli uomini se ti piace o viceversa o con le donne, insomma, questi principi non è che valgono soltanto per la donna valgono in generale, cioè nel senso funzionano e basta, ok? per il genere umano, se vi interagite con gli uomini funziona tra l'altro iscrivetevi al canale perché significa davvero tanto per me e date un'occhiata anche al Patreon dove ci sono i video riservati il secondo è, ah scusate, il primo è dirgli quindi che non potreste mai stare insieme scusate, sta andando un po' avanti oggi col video in questo modo io lancio una sorta di sfida, tipo io e te non potremmo mai stare insieme non so se andremo d'accordo, però mi trovo molto bene con te avete fatto caso a cosa ho detto, ho detto quello che dicevo nel principio precedente lo uso io personalmente con ragazze, lo potete usare voi con i ragazzi allo stesso modo e lo potete usare con qualsiasi persona che faccia parte della classe e razza umana, ok? quindi io e te non potremmo mai stare insieme, però sei davvero carino vedremo come va, non lo so, non sono molto sicura, vediamo ok? molto semplice ti fa venire la voglia di dimostrare il contrario il secondo punto è dirgli che lo vedi più o meno come se fosse un grande amico, un gran fratello anche se poi la prossima mica si azzera questo lo spinge un po' a manifestarti di più il coinvolgimento del tipo e ragazzi questo lo uso anch'io, queste cose le uso non è che stiamo parlando delle cose non lo so, proviamo tecniche scientifiche, teorie no no, queste cose pratiche che semplicemente workano, funzionano, stanno là, basta funzionano per me negli approcci a freddo, per me nelle relazioni, per voi negli approcci a freddo per voi nelle relazioni, voi donne, funzionano anche per voi se usate sempre le cose con gli umani se poi andate a fare queste cose con il cane o il cavallo non funziona soprattutto col cavallo che è not the best of it quindi frenzonarlo teoricamente azzerando la prossemica è la cosa migliore quindi quando stai rapportandoti con un uomo che cosa puoi fare per rendere ossessionato e farti cercare diciamo te, siamo molto amici, ti vedo più o meno come un grande amico e poi boom, lo baci o con questo è un bacio sulla guancia o lo baci in zone dove magari la Bibbia non vuole e gli fai capire più o meno il tuo coinvolgimento ok? che ovviamente c'è fisico ma verbale è sconfermato il terzo punto è darti una sorta di indifferenza praticamente quello che seduce ed è potente come seduzione è farti capire più o meno dove puoi essere indifferente in quali aree del vostro rapporto riesci ad essere indifferente significa che sei indifferente per esempio in situazioni come la chat o i messaggi dove a zero utilizzo delle emoji provate a zero l'utilizzo delle emoji non usare emoji, non usare niente, 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 zero, 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 zero in, zero out zero emoji o per esempio quando sei dal vivo con lui fai semplicemente una sorta di indifferenza per metà appuntamento è una sorta di invece differenza per l'altra metà dell'appuntamento dove c'è se ci fai caso un positivo e un negativo anche durante l'appuntamento super super gestibile sai che più o meno dovete andare a cena fuori a metà cena switcha completamente o almeno poco prima della fine della cena si tendenzialmente fredda e poi switcha un atteggiamento caldo ed eccola là che hai fatto una sorta di indifferenza in push pull il push pull è alla base, alle fondamenta proprio della seduzione poi allontanati se si avvicina anche fisicamente quindi mentre state insieme ti allontani se si avvicina fisicamente magari state sul divano you guys are laying on the sofa and you just get the hell out of it quindi ti allontani completamente nel modo non verbale ti stacchi quindi ti scosti, ti stacchi e a livello invece comportamentale significa essere anche qua poco presente meno presente meno, 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 meno di tante cose, ok? quindi lui si avvicina you go away lui si allontana vai un po' avanti e poi mantieni l'allontanamento una cosa di questo stile ogni giorno mostragli un umore diverso questo è il quinto punto la quinta tecnica che diciamo che si rifà a chi ha disturbi bipolari eeeh whatever i disturbi bipolari sono molto funzionali e seducenti per esempio il bipolarismo nelle persone soprattutto nei grossi CEO delle aziende li rende appetibili ovviamente li fa odiare ma amare allo stesso tempo questo per esempio era tipico che mi sembra di Steve Jobs non ho nemmeno letto sua biografia ma da quello che sentivo ma non è tanto vi ho tirato fuori Steve Jobs perché io vi direi io come persona ma non sapete ovviamente quello che faccio io personalmente però nel senso va sicuro che la mia bipolarità a volte è stata estremamente seduttiva e nella mia esperienza una donna che mi ha lasciato un fortissimo imprinting è bipolare confermata parliamo di tanti anni fa ovviamente non posso dire il nome però il bipolarismo attrae ti puoi scegliere ti puoi utilizzare dei giorni specifici diversi dove sarai felice triste media felice triste media neutrale felice triste media neutrale così tipo lunedì triste martedì felice mercoledì giovedì and so on e continuare così il sesto punto è fare apprezzamenti su un suo amico quindi puoi dire eventualmente che ritieni molto interessante delle cose di un suo amico e che potrebbe essere il tuo tipo perché dei tratti specifici fisici o dei tratti caratteristici diciamo del fenotipo del suo amico sono interessanti quindi puoi anche chiederti magari che cosa piace al suo amico e pensare e dirgli che gli piacciono le stesse cose crea una sorta di antagonista in modo inverso e indiretto questo antagonismo col suo amico sicuramente lo porterà a sentire una grande forte competizione ok e può essere un buon modo per spingerlo di più verso l'idea settima tecnica ovviamente la sesta la devi fare una volta ogni settimana o ogni volta che vi vedete o mezza volta quindi una volta ogni due che vi vedete non devi esagerare il settimo la settima strategia la settima tecnica è spingerlo verso altre donne elogiando le altre donne quindi complimentando le altre donne per esempio alcune ragazze quando mi parlano dell'ex mi raccontano del loro ex fidanzato quello che io faccio è wow il tuo ex era davvero bravo il tuo ex era davvero fantastico a me pensavo di tornarci un uomo così secondo me è funzionale molto interessante è davvero bravo è davvero intelligente è davvero funzionale 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 word of mouth parola d'ordine funzionale funzionale è sempre funzionante ok la parola funzionale puoi inserirla all'interno di qualsiasi contesto specialmente quando elogi un'altra donna che potrebbe piacergli tipo l'ex no raccontami dell'ex ottimo devo parlare dell'ex al primo appuntamento sì in teoria sì ma se sai come parlare dell'ex allora fai questo se esce l'argomento ex elogia l'ex elogia un'altra donna elogia una partner che gli potrebbe piacere spingilo verso le altre the boy is gonna stay ok lo spingi verso le altre he's gonna come back tornerà indietro stare con te ottavo punto accetta le uscite ma solo in compagnia di altre persone ok eventualmente puoi diciamo fare questa cosa esplicitandogli che ti farebbe piacere se ci fossero anche gli altri amici suoi perché non ti fidi di lui questo lo puoi fare all'inizio ok quindi potrebbe spingersi poi magari a organizzare delle cose particolari non ti suggerisco di fare questo magari subito ti suggerisco di farlo magari dopo il secondo il terzo appuntamento dirgli che ne so magari che potresti fare delle uscite in compagnia dove ci sono anche altre persone e dove magari non sei ancora andato a letto con lui quindi non hai ancora letto la bibbia con lui in quel caso puoi fare questa tecnica però attenzione questa tecnica è un po' pericolosa ricordati sempre come poi ricordo anche a me stesso che utilizzare queste tecniche ti dovrebbe aiutare a ovviamente conquistarlo a spingere più verso l'idea ma devi mantenerti distaccata devi ridurre l'emotività a zero quindi cerca di vedere l'emotività che provi in momenti quando stai con lui in terza persona così da poterla ridurre e diciamo abbastanza appiattire Federico Picchianti qua iscriviti al canale per me significa davvero tanto se premi il like o ti iscrivi o comunque vi segui su tutti i social network grazie grazie